Il tuo cuore sarà incatenato lì. Il tuo cuore sarà schiavo delle ricchezze, della vanità, dell'orgoglio. E quello che Gesù vuole è che noi avessimo un cuore libero. E questo è il messaggio d'oggi. Ma per favore, avete un cuore libero, ci dice Gesù. Ci parla della libertà del cuore. E avere un cuore libero soltanto si può avere con i tesori del cielo. L'amore, la pazienza, il servizio agli altri, l'adorazione a Dio. Queste sono le vere ricchezze che non vengono rubate. Le altre ricchezze appesantiscono il cuore. Appesantiscono il cuore. Lo incatenano. Non gli danno la libertà. La libertà è la libertà. La libertà è la libertà. Grazie a tutti.